Uno dei più moderni sistemi di tortura è quello detto alla Gégenne. Due elettrodi collegati con un gruppo generatore di elettricità vengono appoggiati sui punti più sensibili del corpo nudo e bagnato della vittima. Un altro tipo di servizia è quello cosiddetto della vasca. I prigionieri, con mani e piedi legati, vengono immersi ripetutamente in una vasca colma di acqua gelata e di escrementi fino alla soffocazione. Un sistema più pulito, ma non per questo meno diabolico, è quello della goccia d'acqua sulla nuca. Il soggetto viene sottoposto a questa tortura per giorni e notti consecutive, mentre un potentissimo faro gli sbatte sugli occhi e un altoparlante ripete migliaia di volte la stessa parola. E un altoparlante ripete migliaia di volte la stessa parola. E un altoparlante ripete migliaia di volte la stessa parola. In ogni senso io attraverso lo stesso punto mi sento verso e arrangiare la verdenità e ripreso pagato l'anima. Un altoparlante ripete migliaia di volte la stessa parola. Un altoparlante ripete migliaia di volte la stessa parola. In ogni senso io attraverso lo stesso punto mi sento verso In ogni senso io attraverso lo stesso punto mi sento verso Mentre gli piace il sangue un bianco di amore Resta solo il ricordo di una voglia che cade. Mentre gli piace il sangue un bianco di amore Resta solo il ricordo di una voglia che cade. Un altoparlante ripete migliaia di volte la stessa parola. Un altoparlante ripete migliaia di volte la stessa parola. Un altoparlante ripete migliaia di volte la stessa parola. Mi gammale?